E perché faccio parte di loro? Certo, certo. Ok. Il numero uno. Vero? La lista. Buongiorno a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare la Lico e Alessandro per l'ospitalità. Saluto le forze dell'ordine, tutti i presenti. E soprattutto ringrazio l'osservatorio ambientale per aver organizzato nella giornata mondiale per l'ambiente questo momento di incontro e di riflessione perché credo che sia un momento importante per parlare di ambiente. Vedete c'è una frase di Albert Einstein alla quale sono particolarmente legato e ispira i miei comportamenti. Continua a piantare i tuoi semi perché non saprai mai quelli che cresceranno forse lo faranno tutti. Ecco, oggi vorrei invitarvi a riflettere su questo, sui nostri comportamenti. Io sono sicuro che tutti coloro che sono qui siano particolarmente attenti all'ambiente all'educazione, alla cittadinanza all'educazione civica al rispetto del bene pubblico, delle persone e soprattutto dell'ambiente. quindi vi invito a continuare la vostra attività che è quella di sensibilizzazione continuare ad essere esempio perché poi alla fine le buone azioni sono da esempio e sono contagiose. quindi quello che posso dirvi continuate appunto ad essere di esempio perché credo che insieme riusciremo a veder crescere nuovi semi. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ringrazio tutti. Grazie.